Facciamo l'alzabandiera, che bandiera alzate voi? Quella della FIV e quella del circolo, eh? Di che circo siete voi? Nome, prima di tutto come ti chiami? Di Senzano. Nome, nome tuo? Giacomo. Giacomo e? Diana. Giacomo e Diana, tutte e due di Fragliavela di Senzano? Sì. Senti, ma oggi avete fatto la regata, la Cento Junior, com'è andata? Dici, fammi una domanda di riserva, te come sei andata? Abbastanza bene. Vedi, lei è abbastanza bene, secondo me è merito degli orecchini, eh? Fatti vedere un po', guarda lì, datele, guarda, quanti anni hai, Diana? Nove. Nove anni? Quante regate hai fatto? Non lo so. Questa era la? Già ne hai fatte tante te? Sì. Sei navigata, eh? Sei andata bene, sei navigata, eh? E adesso il siamo la bandiera. E l'ultima domanda che vi faccio è, per voi, il bello della vela qual è? Perché ti piace la vela? Guarda sempre, la telecamera. Cosa ti piace della vela? Tutto, non lo so. Tutto, mi piace, tutto è una bella risposta. A te cosa ti piace della vela? Perché hai scelto la vela come sport invece di mondiale? Guardate, perché mi piace l'acqua. Mi piace l'acqua, bravo, ciao. Ciao, ciao. Seguimi, seguimi, che qui abbiamo altri, altri satori di bandiere. Sei stanco, eh? Sei stanco, però mi fanno male le gambe. Beh, allora, perché hai fatto la regata oggi, come è andata la regata? Ehm, non so, sono le classifiche, quindi, però, così cosa? Così cosa? Allora, mi devi dire, come ti chiami? Nicolás. Nicolás. E poi mi devi dire, a te della vela, cosa ti piace? Perché ti piace la vela? Eh, a fare le regate, perché mi diverto a fare le regate, perché, beh, è un sport, diciamo, che, beh, è impegnativo, quindi mi piace anche a fare le cose in barca. Ti piace impegnarti, eh? Perché è impegnativo? Bravo, ciao, ciao, Nicolás. Andiamo a sentirne altri due. Abbiamo la bandiera italiana. Voi tirate la bandiera italiana. Le alza bandiere italiane. Allora, nome? Adele. Adele. Giulia. Giulia. Anna. Anna. No, lei non l'alza. No, lei no, lei non l'alza. Vabbè, ma come ti chiami? Comunque si chiama, ma non l'alza. Eh, vabbè. Allora, Adele, Giulia e Anna, eh? Quanti anni ne avete? Tredici. Cinque. Mamma mia. Sei. Cinque, sei. Allora, tu hai fatto la regata oggi? Sì. Com'è andata? Non lo sai, metà classifica, diciamo. Voi invece no, ancora no. Farete un corso di vela presto. Io l'ho fatto tre settimane. Guarda un po' la telecamera di là. Sì, l'ho fatto tre settimane. Tre settimane. Allora, cosa ti è piaciuto della vela? Eh, niente. Ah, proprio niente. Hai fatto il corso ma non ti è piaciuto. Quindi non ti aspettiamo, ti vedremo in regata prossimamente. Boh, forse sì, siamo a mio amico stringentare. Addirittura! Ma, che te invece farai vela un giorno nella vita? Portugallo! Sì. Intanto, intanto istiamo la bandiera italiana, eh? E invece te che la vela l'hai fatta, no? Cosa puoi dire? Perché ti piace la vela? Quali sono le cose della vela che ti piacciono? Ehm... Non lo so. Guarda, lo sa meglio lei di te quasi. Ciao, ci vediamo dopo che avete inserito la bandiera. La bandiera europea, eh? Guarda un po'. We love fraglia. Allora, nome? Come ti chiami? Edoardo. Tu? Stefania. Edoardo e Stefania. Quanti anni avete? Sei. Dieci. Hai fatto la regata? Sì. Oggi. Come è andata? Eh, bene, tra i primi posti. Vedi? Vedi che lei è arrivata tra i primi posti. Pure te hai fatto la regata oggi? Sì, eh... Quella te bella? Sono arrivato ultimo, ma ho fatto, ho fatto almeno tantissime virate e rollate. Ha fatto tantissime virate e rollate e ti sei divertito lo stesso pure arrivando qui. Questo mi piace molto. Tu invece sei arrivata tra i primi. Eh sì, sono arrivata prima e... Prima proprio. Senti, guarda, guarda la telecamera e fai vedere la maglia. Lei sfoggia questa maglia AC75, le barche della Coppa America, foiling into the future. Che vuoi fare da grande? Andare su Luna Rossa. Basta, non dobbiamo aggiungere altro. Tu? Io voglio andare su Luna Rossa per cambiare mondo. Buonasera, ciao. Va bene, intanto issate la bandiera europea tra poco. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Bello. Ciao.